Cosa stai facendo? Disegnando. Dimmi cosa. Un segno di bassa violenza alle donne. Ah, e dove la mettiamo dopo questo tuo disegno? Alla mostra. Alla mostra della mamma? Sì. Ah, puoi appendere lì il tuo quadro? Sì. Dicendo che l'hai fatto tu? Perché l'ho fatto io? Sei tu che lo stai facendo. Ma dicendo che l'hai fatto tu? Così, così. Ma i bambini possono fare queste robe? Cosa vuol dire queste robe? Se possono fare dei disegni o delle opere d'arte? Sì. Certo che sì. Vediamo la tua, fammela vedere. Ma è tutto azzurra questa cosa. È bellissima. No, ci sono anche gli altri colori ma impestati di azzurro. Ho capito. A un certo punto mi servirebbe un rosso. E come la chiamiamo questa opera? Il titolo? Basta e volentia le donne. Grazie.